Mi capita di piangere per commozioni, per consenso, per estasi, più che per dolore. Il dolore, in genere, non mi dà questa reazione lacrimosa. Io così vorrei essere dolce nell'oscuro me stesso. Un viso attinto all'ambiguo sorriso onde si celano le fanciulle finitime dell'ombra. L'ombra L'ombra Una cosa che ricordo è che andavo attratto dalle cicale a vedere se ne prendevo qualcuno. E andavo con uno sgabello, un sgabello che mi portavo dal giardino per arrivare ai rami su degli olivi. L'ombra Non scrivo all'alba. Perché non sono mattiniero come abitudini, cioè non mi alzo presto e mi metto al tavolo. Però, ecco, siccome fra il sonno e la vigilia vera e propria, insomma, ecco, c'è un interstizio. In questo interstizio si elaborano molte cose, affiorano e si elaborano e si immaginano, si formano anche. E' un po' una piccola officina questo intervallo fra la notte e il giorno, insomma. Un po' una piccola Un po' una piccola Iniziali Le C'era un grande sardo di Firenze e Franchi che voleva farmi un vestito perché lui aveva vestito un po' gli artisti di Firenze e mi ricordo che lo inaugurai il giorno che andai alla prima venne a commemorare Dante. Da allora io non mi sono mai fatto più un vestito. Ciao a tutti. Ma io lo voglio sapere, il domani, tu ne quesieri, che sire ne fasi. Io non sono un gatto che deve avere la sua poltroncina dove stare, anzi a me piace un po' più la vita del mondo, la vita della città e della natura. Ma senza amore non c'è neanche così. Cioè dove c'è poesia c'è anche amore, in varie forme, insomma. Se venisse a inaridircela, sorgente, amorosa, forse si inariderebbe anche nel rivo o regagno della cosia. Ma per essere più triste, io ma tardo. Tardo fra te e me, come all'embo dei giardini, il blu disanimato del tuo sguardo. Il mondo è tanto grande e la nostra facoltà di azione è ristrettissima, insomma, no? È una fettuccina e in fondo il mondo poi deve entrare tutto in questa fettuccina perché ognuno esprimendo un particolare dà cittadinanza a tutto l'insieme, no? Cerca di catturare l'insieme e di giustificare. Catturare l'insieme e di giustificare. Catturare l'insieme e di giustificare. Se io dovessi oggi dire qual è proprio la stagione che mi eccita di più, mi stimola, mi mette in sintonia col mondo, e quel periodo tra l'inverno e la primavera, ecco, questa fine inverno, questa conquista della luce, no? Questa terra grigia, lisciata dal vento nei suoi dossi, nella sua galoppata verso il mare, nella sua ressa d'armento sotto i giochi e contrafforti dell'interno, vista nel capogiro dagli spalti, fila luce, fila anni luce misteriosi, fila un solo destino in molte guise, dice, guardami, sono la tua stella. Quando senza motivo, senza vintesse, senza calcolo, qualcuno ti scrive o te o te, ci presenta, per dirci la sua gratitudine e anche per chiederteli di accoglierlo, ecco, è l'unica cosa che ci ricompensa veramente. Che muore, che nasce, ora che un brontulio di tuono sgretola l'altezza della notte, annunzio improvviso di primavera che rompe il sonno. Grazie. 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 Il matrimonio della macchina non è quello che ci potremmo a te e con il rappresentante dell'ingegno degli altri, anche se le immagini del scammo restituisce prevenendo il suo passaggio per i nostri registrati e i palmi si approssi. Il matrimonio della macchina non è quello che ci potremmo a te e con i nostri registrati e 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 i nostri registrati. Cioè, se può tutto fullmente perché gemeinsamente vista i nostri registrati e i nostri registrati e noiях standbili amand sarchi e accontrati e i nostri registrati e i nostri registrati e i nostri registrati i nostri registrati, nonpath studenti Pennsylvania, nonae sc Sydney ehealthidas. Grazie a tutti. 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 Credo che Andrea Chiodi, quindi sono molto grato a lui, credo che Andrea Chiodi abbia visto alcuni di questi spettacoli che ho fatto nel corso del tempo, appunto a partire dal 94 fino a due anni fa, quando ho messo in scena sempre con Tiezzi, i promessi sposi alla prova di Testori e quindi che abbia pensato di invitare qui questa strana forma di abbinamento che ho creato molto recentemente per una occasione bergamasca, qualche mese fa, mettendo insieme due autori apparentemente inconciliabili, molto diversi l'uno dall'altro, quali Mario Luzzi e Giovanni Testori. Ho pensato, mi sono chiesto cos'è che li unisce e ho pensato che poteva essere sufficiente il fatto che io avessi molto frequentato entrambi dal punto di vista professionale e poi che comunque l'argomento era un argomento sia della Via Crucis di Luzzi sia della Matres Traangoscias di Testori, sono due soli loqui in cui nel primo il figlio, cioè Gesù Cristo, si rivolge al padre nel momento dei Gezzemani, nel momento in cui si trova veramente faccia a faccia con la morte, con l'ipotesi della propria morte e quindi gli esprime le sue paure, i suoi timori, le sue angosce, le sue solitudini. Nel secondo monologo, che è quello tratto dai tre lai di Giovanni Testori, abbiamo invece la madre, Maria Vergine, che si rivolge al cadavere del figlio, al cadavere di Gesù deposto dalla croce. Abbiamo intitolato il figlio, la madre e penso che questo possa essere un elemento che giustifica l'accostamento di questi due autori. Subentro io, testimone della passione, Gesù svenuto è in croce fra altri due condannati. A tanto avvilimento ha scelto di abbassarsi, ma il bene e il buono fioriscono talora nell'infima lordura. Sono ai due lati i due ladroni, uno irride alla sua impotenza. «Sai tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!» L'altro lo segue nella sua passione e redarguisce il compagno di pena. Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena, noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto male a alcuno. Poi dice «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». E Gesù, ripresi i sensi, lo rassicura «Stasera sarai con me in paradiso». «Le guardie si dividono in quattro i suoi indumenti. Se li giocano a sorte sopra la sua tunica, in furia la misconoscienza, s'abbuia la stortura della loro ragione. O sei tu, signore, che vuoi perdere questi uomini?» Dove sono i fedeli di Gesù? Pochi sono rimasti sulla scena. Lo sgomento e la paura hanno fatto il vuoto. Tre donne stanno presso la croce. Sono Maria, sua madre, Maria di Cleofa, Maria di Magdala. All'alto della croce Gesù guarda e la sua madre, distrutta dal dolore, dice «Donna, ecco tuo figlio» e indica Giovanni. E poi, voltandosi al discepolo, «Ecco tua madre! Abbi cura di lei!» Si stringono legami tra creature nel segno dell'amore di Gesù mentre il mondo di prima va in rovina. Gesù ha sete. Gli portano alle labbra una spugna imbevuta di aceto. «Perché, padre, mi hai abbandonato!» È il suo ultimo grido umano. È di uomo, infatti, l'estremo pensiero del figlio dell'uomo sulla terra. Gesù è morto. Il cielo si oscura, l'aria si ottenebra, un boato immane, un sussulto spaventoso, il terremoto scuote la terra, la vita si ritrae in sé, rientra nelle sue latebre, nei suoi ricoveri. Comincia il pomeriggio più angoscioso che mai sia stato al mondo. La sera, un discepolo nascosto, il ricco Giuseppe di Arimatea, si fa avanti e chiede il corpo di Gesù. Pilato lo concede. deposto dalla croce, avvolto in un lenzuolo, è sepolto nella tomba che Giuseppe si era fatto scavare nella roccia. Un masso viene fatto rotolare subito a chiudere l'ingresso, tutto in fretta, prima che la parasceve finisca e il sabato cominci. Sabato è passato. Presto nella mattina vanno alla tomba le donne portando aromi, ma trovano il macigno rotolato via lontano. Entrano nel sepolcro, ma Gesù morto. Non c'è. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Esclamano due angeli in vesti sfolgoranti apparsi all'improvviso. Non è qui? Ressuscitato. Corrono ad annunciarlo gli apostoli, stupiti e increduli. Dal sepolcro la vita è deflagrata. La morte ha perduto il duro agone. Comincia un'era nuova. L'uomo riconciliato nella nuova alleanza sancita dal tuo sangue ha dinanzi a sé la via. Difficile tenersi in quel cammino. La porta del tuo regno è stretta. Ora sì, oh Redentore, che abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ora sì che invochiamo il tuo soccorso, tu, guida e presidio. Non ce lo negare. L'offesa del mondo è stata in mane. Infinitamente più grande è stato il tuo amore. noi con amore ti chiediamo amore. Amen. applausi. 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 E la mia voce ora che ascoltate sono Santa Maria del Fiore. Mi volle la città fervente alta sopra di sé sopra qualsiasi altra delle sue grandi basiliche e le sue umili parrocchie e santa reparata che custodisco in me. Grande mi concepirono i mercanti e il popolo minuto. ebbero di me una visione grande e Arnolfo Giotto Ser Filippo assistettero alla mia nascita essi propiziarono la mia crescita un popolo di artefici si adoperò per me nei secoli l'ubificio è ancora aperto non sarò mai compiuta. Si tenevano fra le mie mura nascenti i dialoghi che avete ora ascoltato non erano neanche essi profani crescevo su me medesima mi alzavo sopra la città per opera della pietà comune e di spicciola pazienza chi sono gli operai gli artefici e gli artisti che mi hanno messo al mondo ed al suo onore ne avete uditi alcuni altri innumerevoli hanno parlato e tacciuto un popolo di spi intanto devo prima di tutto esprimere la mia gratitudine a questo pubblico che è qui presente e alla municipalità che ha organizzato questa serata su impulso naturalmente di amici che sono qui presenti io mi meraviglio che sia abitato nel pensiero di Mattel io stesso con questa operetta è vero come un dono da fare alla città di mendrisio sia che io sia stato un oggetto così importante secondo il pensiero e l'affetto di Mattel da poter essere considerato un dono da fare a una comunità che è qui presente questo questo è un oggetto di molta sorpresa devo dire e poi appunto questo commento che è stato fatto questa esposizione lettura è vero in modo straordinario intanto la presenza di un uomo di chiesa scusi il padre Achille è vero come vorrebbe essere chiamato il cardinale Celestrine dà subito un respiro no dà subito una dimensione alla a qualunque a qualunque pretesto o anche testo diciamo letterario che è inimmaginabile nella sede della comune vita letteraria ho sentito appunto io stesso che ho pure scritto questo libro ma è un male ripercuotersi su di me è qualcosa che certamente è stato anche forse di me ma è stato più sbagato di quanto il cardinale Silvestrini ha saputo mettere a punto che quindi io ricevo anche da questa presentazione un'auto presentazione cioè un'immagine nuova anche più realistica e forse più più così più 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 prospettica di questo libro che ho fatto e che un benemerito editore più presente da do ha voluto stampare e certo la cosa è nata come nascono le cose degli uomini no perché dopo le vediamo no le vediamo le interpretiamo e ne vediamo anche il senso i nodi che collegano i particolari ecco ma intanto nascono da piccole circostanze l'uomo ha una vita non dico da pollaio ma insomma molto circoscritta e questo lo sto sempre più rilevando rilevando anche come autoriflessione noi viviamo nel piccolo viviamo nel minimo e i nostri i nostri disegni non possono andare molto in là molto più in là delle dimensioni cerebrali che nostre che sono piccole in sostanza rispetto alla grandezza del mondo e dell'essere e sentirla ora qui a a Mendrisio ecco risentirla qui a Mendrisio in questo chiostro in questo ambiente mi pare pieno di misura pieno di misura e anche questo è di sapienza in fondo no? di sapienza condensata ecco sì mi fa molto effetto anche a me insomma io vi sono grato di avermi rimesso di fronte al mio lavoro grazie